Io chiederei a Massimo, prima di fare un secondo giro di tavolo molto sintetico e chiedo a tutti gli speaker di restare nei tempi, chiederei a Massimo se ha raccolto delle impressioni interessanti, insomma ho visto che molti degli aspetti che discutevamo prima di iniziare la tavola rotonda effettivamente sono emersi. No, assolutamente, infatti ho preso un sacco di appunti come inizio di un sicuro progetto. Vedo che c'è una consapevolezza molto alta in diversi settori, quindi cito un po' di cose che mi sono segnato. Assolutamente l'area dei cantieri, dei cantieri digitali, è una delle cose che si possono fare come tecnologia e è perfettamente in linea con la logica di seguire anche l'essere umano all'interno di un cantiere, quindi non soltanto proteggerlo, sicurezza e in più si citavano anche prima tecnologie che possono anche far capire se le cadute o situazioni di stress o addirittura, essendo comunque dispositivi medicali, logiche di tremori, epilessie. Quindi si va in una direzione in cui si possono avere molti più dati all'utilizzo. Tutta l'area che è stata citata giustamente da Daniele e altri tipi di wearable, capire la propria, come dire, intanto capire la situazione di stress. Si è parlato di luoghi di lavoro e si è partato dal cantiere, dal grande cantiere, dalla situazione a rischio, dalla parte che anche io ho citato più immediata, ha in realtà un luogo di lavoro più fluido, l'ambiente di lavoro, casa, il mobile, siamo tutti in mobilità, guidiamo, viaggiamo, ci sono un sacco di informatori scientifici, venditori, persone di service che sono sempre in viaggio. Quindi mi piace molto la logica di aggiungere il monitoraggio continuo, non solo puntuale, dell'impiegato, perché il suo luogo di lavoro è molto fluido, non stiamo mai in un posto, siamo un po' a casa, un po' al lavoro, un po' in macchina, un po' dal cliente, con diverse situazioni di stress, quindi l'ho trovato degli spunti assolutamente in linea con quello che immaginavamo. Devo dire che è molto interessante anche il discorso di Giorgio su Tennis and Friends, perché noi ci occupiamo veramente molto di screening, stiamo andando anche sulla ricerca, quindi sulla parte genomica, screening di secondo livello, con progetti molto innovativi. Ma post-Covid c'è stato un crollo delle persone che fanno screening, paradossalmente, paradossalmente. E quindi utilizzare lo sport, l'aggregazione, anche personaggi noti per avvicinare il cittadino, la persona, alla cultura della prevenzione è assolutamente un'idea geniale. Insomma, spero che ci sia molto a breve la possibilità di fare, comunque di lavorare insieme. E non sono numeri banali, perché portare in un weekend 35.000 persone a fare comunque prevenzione, beh, con un evento singolo, devo dire che è tanto di capello. Altri spunti che direi mi hanno interessato molto, e li trovo assolutamente intanto virtuosi, perché quando parliamo comunque di uno screening annuale a tutta la popolazione, ne parlavamo anche prima, ma devo dire che ci sono già aziende con investimenti e logiche, non è standard, devo dire la verità. Non tutti riescono a fare screening, prevenzione, oppure un check-up completo a tutti gli impiegati. Però è anche vero il fatto che è un momento nel tempo. Principalmente è costoso, ne parlavamo, quindi è un investimento anche oneroso. Noi dobbiamo avere degli incentivi, la tua azienda, a fare questi investimenti. Concordo, devono essere virtuosi, si deve guardare il risultato. Però è un momento nel tempo, poi passano 12 mesi, e 12 mesi sono lunghi. Quindi riuscire ad avere invece un monitoraggio continuo nel tempo è prevenzione vera. Quindi si può fare quel passo aggiuntivo nell'ottica welfare di comunque riuscire a monitorare più spesso i propri impiegati, sempre nell'ottica di prevenzione e di sicurezza. Quindi direi assolutamente tutti i spunti che mi rendono felice. Grazie comunque a Giordano perché è esattamente il tipo di dialogo, di confronto che dobbiamo fare. Passare alla seconda fase perché c'è un ulteriore spunto. Sì, allora io direi così, sulla base... Sì, solo un'aggiunta, grazie Massimo. Nel secondo giro, come ci siamo detti fin da principio, chiederei ciascuno, nella libertà ovviamente di ciascuno, di proprio dare anche, direi quello che si vuole, ma dare a bullet point come si fa in questi casi, l'indicazione di cosa, secondo ciascuno di noi, bisognerebbe fare su progetti di legge e cultura. Poi qualcuno dice solo un progetto. Uno lo dico io, bisogna che a Tennis & Friends ci siano 60 milioni di italiani. Cioè dobbiamo lavorare per questo. Cioè per me Tennis & Friends è un obiettivo mio personale, che voglio mettere io, prima che lo dice Giorgio, lo dico io. Il cantiere digitale mi sembra una cosa geniale e per me io lo metto, mi permetto di metterlo nell'agenda dei lavori. Quando? E le prossime settimane, mesi, anni. Dobbiamo lavorare, cioè non si fa in un giorno. Però dobbiamo martellare su queste cose qua. Quindi continuamente farlo. Il film su Tennis & Friends andava messo in prima serata, una sera invece di fare i pacchi, mettevamo Tennis & Friends. Forse lo metto, abbiamo speranza. E allora Dio esiste. No, per dire, cioè dobbiamo martellare su queste cose qui. Sant'Agostino. Quindi tanto, per fortuna, io non sono Dio, almeno io, non so voi, e quindi non posso risolvere il mondo, ma come dice Sant'Agostino, meglio soppicare sulla retta via che correre per via sbagliate. L'importante è che andiamo nella direzione giusta, tutti insieme, facendo sistema, donne e uomini di buona volontà, competenti come voi, come noi, su ogni materia, far crescere questo gruppo di lavoro. Quindi pensate anche a chi altro coinvolgere nei prossimi mesi, per ottobre, per l'anno prossimo, in questo gruppo di lavoro, persone di buona volontà e competenti in questo ambito, associazioni, giovani, università, aziende, istituzioni, oltre a quelle che già abbiamo, eccetera, per lavorare sulle varie progettualità. Ecco, in questo giro, e concludo, cominciamo a mettere in fila quali progettualità. Se no, chiacchieriamo, chiacchieriamo, bla bla bla, direbbe Sorrentino, anzi, Gep Gambardella, per conto di Sorrentino, bla bla bla, l'imbarazzo dello stare al mondo, vado a fare uno speech. Io credo che, anche meno, cioè, speech, convegni, io non ne posso più, non so voi, cioè, mi piace fare le cose concrete, qui non stiamo facendo né speech né convegni, stiamo iniziando a lavorare. Certo, in due ore non possiamo risolvere un problema atavico di cento anni, ma, però, stiamo lavorando in quella direzione. Pezzettino alla volta, costruiamo l'Italia di domani. Quindi, ecco, in questo giro, mettiamo l'ordine del giorno su cosa lavorare, quali progetti. Poi ognuno sceglierà il progetto su cui impegnarsi, no?